Caro Walter, oggi io vorrei rivolgermi soprattutto ai militanti di base del tuo partito. Per me sono ancora i compagni. Ecco allora, cari compagni della base del Partito Democratico, a noi stanno arrivando una quantità incredibile di adesioni da parte di militanti come voi. Che in tutti i modi dicono che saranno in piazza e che considerano davvero questo un momento cruciale per la democrazia interna. Io vorrei quindi innanzitutto ringraziarvi per questo impegno che so che autonomamente molti di voi nelle loro sezioni di appartenenza stanno già svolgendo con il tam-tam, il passaparola, il tam-tam dei siti, dei blog. Qualcuno già con quelli che un tempo noi chiamavamo il Dazibao, fatti a mano, scritte che vengono messe nelle sezioni. Ecco, io credo che questo sia di straordinaria importanza. E per gli ultimi giorni noi vorremmo sul sito di Micromega mettere anche proprio uno spazio in cui possiate prendere contatto non tanto con noi di Micromega, quanto tra voi stessi che ciascuno magari indipendentemente dall'altro già sta muovendosi nella sua sezione. Questa mattina a Repubblica TV ho visto che sono arrivate decine e decine di messaggi dalle sezioni di militanti che dicevano che vogliono partecipare e che non riescono a capire questa assenza del partito ufficiale. E del resto ci sono anche molti deputati di questo partito che stanno ragionando su come esprimere la loro adesione. Io credo che proprio la vostra mobilitazione, che è crescente, sia la migliore dimostrazione del carattere unitario di questa manifestazione. C'è naturalmente chi vuole portare il Dizzania, chi vuole dire che la nostra manifestazione finirà per essere contro il partito democratico. E' ovvio invece che sarà ed è già nella sua preparazione una grande manifestazione contro il governo Berlusconi per dire no a due leggi indecenti che pongono fine agli elementi essenziali della nostra Costituzione, che la stravolgono e a cui noi dobbiamo opporci ora tutti insieme perché ora quest'attacco viene sferrato. Vi ringrazio ancora e ci vedremo tutti insieme martedì.